Ma come? Come travesco un passato e hai fatto una macchina? Guarda, sta così bella, non è un'altra parte. Ed in vero, per i tre congelini, ma arriva subito la quarta parola, sette lettere, questa sette lettere, a decere, non ti, c'è una R, con questa lettera, Simone, Corzaro, Corzaro, Corrida, 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 come va a essere, ma come va a essere, Simone, parlata, Parrida, no, arrivo la sua lettera con la quinta, La E accanto alla R, la E accanto alla R, Simone, Cerenza, Cerenza, no, Alessandro, Muretto, Muretto e meno, Simone, no, niente, Alessandro, Agresta, agresta, bella, ma non è, Simone, Muretto, 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 M Allora, Puretto è la varietà domestica della porciola. Allora, dove nasce il nome di questo animale? L'orecchio sulla Percani Online. Viene dato latino. Fulbulis, che vuol dire lato. Non è caso, infatti, questo animale si può avere un nuovo scanto, proprio come fanno i ladri. E alcuni Puretti, ecco la figura di proprio i ladri, come Puretti. Allora, sentiamo la quinta parola. Quinta parola, due lettere. Partiamo da una E al centro. E poi, Simone. Caralho, no. Sì, penso. Luca, parteci. A C, uno, però, no. Simone, posteggio. Tre. Vediamo se arriva la lettera. E ancora qui, altre E. Alla fine, però, in cota. Trae la carta lupina E. Vediamo la A, che seconda lettera era A. Ciao, ciao. Non c'è l'anno. Non c'è la parola, vi da O. Attenzione, siamo tutta la chiamata. Vi da O. Cominque me inizia Angelo. Eh, non c'era. No. Simone. Bassevole. Bassevole, come va a essere? Bello, non hai passato. Bassevole. Bassevole, sì. Cose di faccio. Grazie a tutti.